Musica Aprica è un brand di nuova generazione, nuova concezione, è un pronto, trova novità due volte alla settimana un concetto moda, non esasperato, con un grande ventaglio di proposta, dalla quindicenne alla cinquantenne e anche oltre perché ormai è così, questo è il modo di vestire delle donne in questo momento Musica Un brand che da pochi mesi sta abbracciando tutto il territorio nazionale e non solo si è allargato anche in qualche nazione in Europa per il momento Musica Musica Qui siamo a Pescara, siamo a Pescara in via Trento 97, l'ultima novità in Abruzzo Musica